ciao a tutti siamo qui per l'edizione 2014 del calendario tubertini anche oggi abbiamo delle bellissime ragazze da sistemare degli abiti stupendi e ovviamente tutto il materiale da pesca che va abbinato alle idee che stiamo creando in questa giornata particolarissima come tubertini siamo sempre alla ricerca dell'innovazione di creare prodotti sempre più tecnologici e performanti proprio per offrirvi a voi un prodotto spettacolare oggi siamo qui in val di chiana e anche oggi ci sottoponiamo a un lavoro durissimo siamo a fare il calendario 2014 come vedete è un lavoro qualcuno doveva pur farlo è un lavoro veramente duro no siamo sottoposti a uno stress di lavoro enorme però lo facciamo per voi per darvi un calendario 2014 spettacolare ciao a tutti 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 vi aspettiamo domenica prima dicembre alla Fera di Forlì numerosi eh vi aspettiamo numerosi ciao a tutti ciao a tutti